Ho la bici troppo leggera, arrivo troppo lungo. Ma sei fuori, c'ho due figli, a casa io. Voglio riprendere tutto. Ma perché ho montato i raggi da cross country? Questa discesa avrà un 25% di pendenza, è illegale. Ma non è la stagione dello snowboard questa. L'ho presa nello stinco. Tiramis una Red Bull. Ho le pastiglie vecchie. No, no. Hai mai provato le barrette energetiche? Oh, ti sto un po' più lontano adesso perché mi tiri su un sacco di sassi e mi graffi la lente specchiata. Meglio se non rischio, devo guidare io al ritorno. No, c'ho la Fox nuova. Non è un fatto di tecnica, sono le geometrie qua che mi limitano. Tranquillo, lo faccio, tranquillo. Ho un'aurea negativa intorno ultimamente, meglio se sto tranquillo un po'. Oh, ce l'hai ancora una di quelle barrette energetiche? Merda, ho bugato! E quant'è niente che giri? Oh, l'olio non è entrato in temperatura! Pompalo, pompalo! Madonna, che guippone! Sì, ho tirato pure X-Up. Adesso vado! Mi fa un male alle spalle questo Ryze così alto. C'è il cambio che non mi convince. No, no, sono senza protezioni, no? Ma sei sicuro che non è pericoloso? Oh, è incredibile quanto limiti la monopiastra. Ho i raggi troppo molli oggi, non riesco a venire giù, eh. Andiamo a fare un po' di gibbing. Il meccanico mi ha messo troppo precarico! Non so se le viti merga le regano tutte queste vibrazioni. Ma di che materiale hai fatto sto troppo? Io del pino non mi fido, eh!